Proseguono secondo i tempi previsti i lavori per il completamento della strada regionale 429 destinata a diventare un raccordo moderno e sicuro fra la FIPILI e la Firenze Siena Grosseto. Nelle immagini vedete il sopralluogo nel cantiere del Quartolotto, che collegherà Dogana nel comune di Castelfiorentino alla rotatoria sulla via Volterrana a Gambassi Terme, effettuato dall'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, con il commissario regionale per la 429 Alessandro Nunziati e i rappresentanti della città metropolitana e dei sindaci dell'area interessata. Questo Quartolotto di circa 6 km prevede lavori anche impegnativi, come un chilometro di gallerie, il ponte sul rio Petroso, però tutto quanto viene portato avanti da una ditta che già conosce il territorio, perché è quella che ha realizzato anche il Quintolotto. Devo dire che la 429 rimedia un po' ai suoi vizi di essere stata un'opera piuttosto lunga, riesce a farlo in parte, in maniera molto costruttiva, inserendosi nel territorio, migliorando le caratteristiche idrogeologiche. È un'infrastruttura che attendevamo da anni, che adesso vede sciolti i suoi nodi principali, come vedete noi siamo sempre sul pezzo a cercare di monitorarne l'andamento, però consideriamo anche che i problemi principali che l'avevano attraversata sono stati tutti più o meno risolti e anche il lotto terzo tra Castelforentino e Certaldo è in corso di gara. La fine dei lavori per il Quartolotto è prevista entro luglio 2020 con un investimento di 15 milioni e 700 mila euro. La soddisfazione di oggi è quella di vedere che dopo il taglio del nastro di luglio, che sicuramente ha rappresentato un punto importante, non solo non ci siamo fermati, ma tutto sta andando avanti secondo i tempi previsti.